eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero edizione straordinaria serale perché ragazzi questa sera usciva la nuova mappa piccola di warzone che come vi ho detto era una cosa stra riciclata direttamente dal mazzarà e avete visto quello che è successo ne parleremo in questo video ma soprattutto è uscita una patch importantissima in merito alle armi alla correzione di alcuni bug ma andiamo per piccoli passi prima cosa spaccate il video con almeno 300 mi piace mi raccomando e iscrivetevi se siete nuovi mi raccomando nel primo link in descrizione invece salvatelo nei preferiti che la mia collaborazione con i nebb che vi permetterà di spermiare i soldi sui videogiochi nuovi del passato gold che impasta di xbox il plus di playstation skin aggiuntive di mv2 chi più ne ha più ne metta troverete di tutto e di più partiamo innanzitutto con la patch che è stata rilasciata poche ore fa proprio intorno alle 19 19 e 30 partiamo con le correzioni di bug risolto un problema che impediva lo sblocco dell'allegato daemon akimbo da 9 mm finalmente direi questa correzione solverà il problema per i giocatori che non hanno ancora raggiunto il requisito di sblocco siamo ancora in corso per riparare i giocatori che avrebbero dovuto guadagnare le akimbo ma non l'hanno sbloccato quindi finalmente il problema delle akimbo sulle pistole sull'ultima pistola soprattutto è stato risolto risolto un problema per cui la quantità di operatori mostrati era incoerente tra utenti e piattaforme risolto un problema che richiedeva al giocatore di fare clic con il pulsante destro del pulsante riproduci per funzionare correttamente su pc quindi per rigiocare la partita risolto un problema per cui la schiena dell'operatore grace shadow 01 e shadow 01 black cell apparivano identiche risolto un problema che consentiva lo sblocco della daemon da 9 mm con tutti i colpi alla testa piuttosto che soli alla colpa delle teste soltanto con i colpi alla testa dalle pistole quindi hanno risolto questa sfida vediamo che è successo invece all'interno di warzone una cosa molto importante i seguenti cambiamenti si rifettuano non soltanto su warzone ma anche in dmz quindi modifiche su warzone e dmz nerfate nuovamente l'rpk e il cronen school quindi danni ridotti in cross range il moltiplicatore di danni al collo è diminuito il moltiplicatore del busto e quindi i colpi del busto superiore è diminuito questo per quanto riguarda il cronen school il nuovo importante nerf altro importante nerf anche l'ha subito l'rpk quindi sempre i danni ridotti in cross range intervallo di danni nel sempre in cross range in questo caso aumentato mentre il moltiplicatore di danni alla testa è stato aumentato il moltiplicatore invece di danni al collo diminuito il moltiplicatore di danni invece al busto e al torso quindi sono stati diminuiti e anche il moltiplicatore di danni agli arti è stato diminuito quindi mentre ha avuto un miglioramento in termini di moltiplicatore di danni alla testa per quanto riguarda corpo e gambe e arti è stato diminuito il moltiplicatore di danno vediamo invece gli aggiustamenti diminuzione per quanto riguarda i danni del precision air strike agli mrap quindi al veicolo impedendo loro di essere distrutti in un solo colpo nella modalità corazzato royal e vediamo le correzioni di bug risolti i vari problemi che causano l'errata o la mancanza di informazioni durante l'utilizzo della modalità code caster risolto un problema che poteva causare esplosioni di pacchetti ridurre le prestazioni del gioco su bundle risolto un problema per cui più oggetti potevano galleggiare nell'area dell'osservatorio zaia risolto un problema che poteva causare invece una collisione mancante su un edificio all'osservatorio zaia portando ad un exploit infatti c'era un sacco di problemi nell'osservatorio zaia una volta che è stato distrutto infatti c'erano veramente oggetti che volavano era difficile in lutte all'interno della batte royal esolto un problema per cui un avviso veicolo sotto attacco appariva quando il mrap della squadra subisce danni da caduta nella modalità corazzato royal esolto un problema che poteva impedire che l'interfaccia utente del respawn apparisse correttamente nel corazzato royal esolto un problema per cui un compagno di squadra che usciva nella modalità corazzato royal quartetti non abbassava il termine del respawn ritorno per il resto della squadra risolto un problema per cui le piazze di armatura non risettavano nella pre lobby sempre nella corazzato royal una volta che partiva la partita è risolto un problema per cui il giocatore potesse riportare nel menu principale dove tentò di entrare nella sezione biglietto da visita o emblema nella scheda personalizza risolto un problema che poteva causare la generazione di casse forti all'interno degli oggetti dell'osservatorio zaia nella batte royal risolto un problema che poteva consentire ai giocatori di entrare nel sito nero quindi nel black site del surf bay senza una chiave risolto un problema per cui la usa la torretta della mrapa esteso e stendeva la portata interferendo impedendo le interazioni con le stazioni di acquisto o la riparazione dei pneumatici risolto un problema per cui la playlist quartetti rotazione battere royal mostrava una modalità di gioco segna posto risolto un problema per cui gli operatori potevano agganciarsi l'uno all'altro dopo essere entrati ed usciti dalla torretta mrapa sempre una modalità armored corazzato royal questi invece invece sono tutto quello che riguarda ragazzi la correzione di problemi all'interno di dmz tra cui risolto la missione della della caccia che non teneva traccia correttamente quando il giocatore eseguiva il giocatore con la taglia su dmz risolto un problema in dmz per cui il giocatore non era in grado di avere entrambi i livelli 3 4 degli aggiornamenti attivi contemporaneamente mentre quelli 4 non potevano essere completati risolto un problema per cui un contenitore del gas nel bunker sotto l'osservatorio zaia non poteva essere saccheggiato all'interno di dmz ma vediamo invece che cosa è successo ragazzi alle 19 quando è stata introdotta la nuova mappa piccola che già avevo fatto vedere nei giorni passati perché praticamente prendere il punto di interesse di almasara è schiaffato direttamente nella nuova playlist così aveva detto praticamente activision non hanno praticamente neanche staccato il ponte quindi praticamente hanno fatto una mini royal ritorno se vogliamo definirla così quindi a tutti gli effetti è un vero e proprio flop non è stato cambiato il cielo non è stata cambiata la grafica non è cambiato praticamente nulla in che senso voi mi direte amante vi faccio vedere tramite queste immagini che sicuramente è molto più esaustiva di quello che sto per dirvi praticamente come state vedendo quando lanceremo la playlist e non vedremo soltanto la minima patattica di albacra fortress ma vedremo proprio almasara con il cerchio soltanto su albacra fortress e quali sono i problemi innanzitutto che le safe molti safe chiudono in acqua oppure chiudono lontano dalla mappa come potete vedere a sinistra ce ne andiamo a surf bay che non c'è niente a che fare con albacra fortress se la playlist si chiama soltanto albacra fortress secondo problema la mappa non è stata quindi estrapolata dal masara ma hanno messo almasara mini royale in versione ritorno quindi un'altra ennesima presa in giro oltre al fatto di riciclare una mappa che è un punto di interesse della mappa principale e poi nessun cambiamento grafico quindi al 100% io ragazzi la mia idea è che è stato veramente un flop pazzesco mappa sicuramente che sarebbe stata carina in 40 giocatori come è stato fatto se fosse stata staccata dal masara se fosse stata pulita di tutti i contorni se avessero cambiato ad esempio il mare mettendo dei confini diversi se avessero cambiato qualche colorazione l'illuminazione il cielo qualche edificio non è uno chiede ragazzi veramente il mondo ma almeno piccoli accorgimenti che almeno ci fanno vedere se ci stai riciclando un prodotto ma almeno ci hai lavorato sopra ecco perché continuo sempre a dire che ho sempre più paura di quello che vedremo con mv3 quando ci andranno a mettere 16 mappe rimasterizzate di un gioco del 2009 queste come stai vedendo invece sono le playlist attive da questa sera su warzone oltre a questa ennesima presa in giro come playlist voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti assolutamente lasciate tutti quanti un commento noi ci vediamo invece domani alle 14 live su twitch perché il tg code l'ho anticipato a questa sera per queste bombe nucleari e ci vediamo quindi dopo domani per un nuovo video